Una vetrina nazionale per Camerino ma anche per la regione Marche che grazie allo sport continua a parlare di turismo. Sì, una vetrina nazionale, un'occasione di rilancio e di risveglio soprattutto riferito al cratere sismico e alla città di Camerino. Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione un evento così importante che è anche un'iniezione di fiducia sul futuro. Siamo davanti a un evento molto importante che riaccende la stagione turistica quindi aiuta anche un po' nella stagionalizzazione ma soprattutto per il tramite dello sport porta da noi tantissimi giovani e tantissimi enti formativi. È un'occasione di confronto, di sviluppo, di rilancio ma soprattutto di promozione quindi siamo veramente molto contenti e poi c'è la felicità che deriva dal fatto che questo evento tocca e si svolge proprio a Camerino che è l'epicentro insieme ad altre realtà del sisma del 2016 con i drammatici eventi e le difficoltà della ricostruzione. Quindi è un evento che sta anche a significare per noi una valenza particolare. E vinta il migliore. Questa è la mascotte dei CNU appunto di Camerino e lo dico per i tanti giovani che ci sono oggi.